Un'altra parentesi che ritengo molto importante è anche quella, ha una sua valenza come lezione appresa e però non poi praticata come conseguenze logiche da mettere in atto, la guerra dei Balcani. Avevo appena terminato il comando dell'Accademia Aeronautica nel 1998 e vengo destinato subito dopo, poco dopo, qualche mese dopo al comando della Quinta Ataf, comando nato all'epoca dislocato a Vicenza. La mia assediazione è data 24 febbraio, il 24 marzo si aprono le ostilità nei confronti di Milosevic. Noi siamo entrati immediatamente e stranamente direi in guerra a fianco dei nostri alleati della Nato, anzi diciamo che noi abbiamo avuto un ruolo di maggior rilevanza rispetto a tutti gli altri perché il Presidente D'Alema all'epoca, primo comunista della storia, prese una decisione molto sofferta e però portò l'Italia in guerra. Questa guerra è durata 78 giorni, non starò qui a raccontare dettagli anche interessanti, magari un'aneddotica o una storia anche diversa di strategie della Nato, però ritengo una cosa fondamentale come lezione appresa e poi non tramutata in pratica come dicevo prima. Cioè quella che il nostro Paese non è in grado di tutelare i suoi servitori con delle garanzie funzionali che li preservino dall'incappare in incidenti nei quali sono incappato io personalmente, ma anche al generale Arpino e all'armiraglio Guarniere, capo di Stato Maggiore dell'epoca della Marina, quindi con uguali responsabilità Arpino di capo della difesa, Guarniere della Marina e il sottoscritto come comandante operativo delle forze aeree impegnate nei Balcani. Che cosa è successo? È successo che pochi mesi, forse settimane, non ricordo esattamente le date, dopo la cessazione dell'ostilità, terminate appunto l'8 giugno del 99, io ero a Palazzo Ghigi come consigliere militare del Presidente D'Alema e viene nel mio ufficio il procuratore generale militare Antonino Intelisano. Il procuratore aveva con sé un esposto denuncia di un certo numero di intellettuali serbi, i quali in questa denuncia lamentavano che non essendo loro in guerra con nessuno erano stati bombardati per 78 giorni e quindi chiedevano che i responsabili fossero assicurati alla giustizia. Io fui interrogato a lungo, dovetti circostanziare qual era il mio ruolo, da chi prendevo ordine, cosa firmavo, tutte queste cose e dopo questa mia resa di dichiarazioni la pratica che mi riguardava fu archiviata. Naturalmente in Italia come sappiamo non è un risultato scontato questo, comunque a me andò bene, non così bene andò al generale Alpino e al guardiere che dovettero difendersi in giudizio sul perché uno come capo di Stato Maggiore della difesa e l'altro della Marina non avessero evitato che le bombe fossero sganciate in Adriatico, le bombe non esplose dei veleoli partecipanti e queste bombe che avevano causato poi il ferimento di due pescatori e così via. Furono anche loro al termine del processo prosciolti e qui è curioso e interessante, è molto vera, una battuta che Alpino faceva quando il generale Clark, Wesley Clark, il comandante supremo della Nato all'epoca, dopo questo conflitto fu proposto per la presidenza degli Stati Uniti e Alpino conversando con lui al telefono dice vedi tu per quello che hai fatto ti vogliono fare Presidente degli Stati Uniti, a me mi vogliono mettere in gattabuia per la stessa cosa, ed è proprio esattamente quello che è successo. Io avrei per esempio avrei potuto essere portato in giudizio e non sarebbe andata certamente così bene con un'archiviazione se qualcuno mi avesse intentato causa per delle cose delle quali mi assunsi la responsabilità e che non potevo fare, ossia invasione di spazi privati per dislocazione di sistemi missilistici e radar e altri sistemi antiaerei, soppressione di alcuni servizi essenziali come per esempio la linea elicotteristica, la linea di elicotteri che collegava le isole Tremiti con Foggia mi pare, chiusura di un aeroporto, l'aeroporto di Bari, se tutti i gestori di questi servizi mi avessero intentato causa io credo che avrei dovuto pagare, ma perché? Perché ecco l'insegnamento, perché siccome tutto quello che accade oggi e accadrà domani e dopo domani non si può configurare come guerra perché non viene formalmente dichiarata guerra, ogni servitore che si trovi in guerra o in qualche cosa di simile può essere chiamata a rispondere in giudizio e il giudice non può fare altro che applicare la legge di pace, non ha altri strumenti, se fosse stata guerra avrebbe applicato un altro codice e quindi ce la saremmo tutti cavata, così non è. A testimonianza di questo episodio perché lo considero molto importante, un altro episodio ancora più clamoroso, quello che ha riguardato il generale Bruno Stano, chi è il generale Bruno Stano? Il generale Bruno Stano è colui che all'epoca nel 2003 era il comandante delle nostre forze a Nasseria, comandante del contingente militare italiano impiegato in Iraq a Nasseria. Ricordiamo di quel terribile attentato che causò la morte di 19 italiani, 17 di cui militari, Bruno Stano si è dovuto difendere in giudizio perché l'accusa era quella che non aveva, non si era adoperato affinché venissero edificate delle difese atte a prevenire o a neutralizzare qualsiasi attentato di quel tipo. Bruno Stano fu prosciolto, quindi la giustizia penale non lo ritenne responsabile di alcunché. Il processo civile, intentato dai parenti delle vittime di Nasseria, ha portato alla condanna di Bruno Stano in Cassazione a risarcire gli aventi titoli con 70 milioni di Euro di tasca propria, avete capito bene? Quindi il principio che è passato è che un comandante italiano all'estero, governo, qualunque cosa accada a un suo sottoposto, ancorché la giustizia non riconosca nessuna responsabilità penale, deve pagare di tasca propria risarcire gli aventi titoli, le vittime o i danni o i parenti per i danni causati. Quindi voi capite che a parte l'assurdità per una persona di essere trattata in questa maniera, anche il colpo di maglio al concetto fondante della gerarchia militare, chi vorrà più andare all'estero al comando anche di un manipolo di persone. Quindi qui si tratta di mettere mano a una stortura, forse un mostro, uno dei tanti mostri della nostra giustizia, che prevede un percorso parallelo della giustizia penale, del processo penale di quello civile e può divenire a conclusioni diametralmente opposte per lo stesso fatto. Questo deve essere sanato, questa condizione, che come abbiamo visto può portare a questi risultati assurdi e quindi fare in modo che sicuramente il processo civile si basi su criteri diversi da quello penale, che però non siano così confliggenti che quindi la verità, così come è appurata, abbia un ruolo più pesante rispetto a questi impianti accusatori che poi portano a sentenze di quella fattispecie. La stessa cosa che è successa per Ustica, Ustica al processo penale ha detto che è stata una bomba, l'ipotesi più compatibile, l'unica, però poi in sede civile il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati condannati a risarcire gli aventi titolo. Gli eredi davanzali, i proprietari dell'Italia, hanno avuto 300 milioni di Euro o forse più di denaro pubblico e forse in questo sta forse la spiegazione un po' di tutta la tragedia di Ustica e del perché si sia incistata nel sentire comune la verità del missile che, come abbiamo visto, come io ho detto, è una invenzione, palese. Quindi il secondo messaggio che vorrei consegnare, che deriva dalla mia esperienza diretta, è quello che venga individuato un quadro legislativo, un quadro giuridico, che contempli queste situazioni emergenziali che assomigliano molto alla guerra o le assomigliano poco e che però contemplano un'esposizione inaccettabile dei servitori dello Stato che poi improprio debbono pagare per colpe che poi non sono neanche loro, o comunque non sono delle colpe. Grazie a tutti.